Ciao ragazzi, benvenuti nel quarto episodio. In questo episodio ci saranno vari boss da affrontare. Buona visione! Ho spero che i più piccoli saranno pronto. Ora che il king è morto, i piccoli non hanno un leader, nessun direzione. Ma la cura della malattia di petrificazione ancora si tratta. È difficile, ma io vedo dove dovresti andare adesso. La grande exzibizione. Rupori dicono che gli alchemisti ci hanno sviluppato una cura. Come un uccionismo, sono sceptico di gli alchemisti. Soprattutto la scienza loro e le motivi. Ma potrebbero essere la città' ultima speranza. Non ti aiutare a me, figli? Prendete questo. Tu potresti trovare il più utile. Se potrebbe aiutare Antonia e gli altri, è piuttosto che sviluppare. Per andare a la grande exzibizione e vedere cosa puoi trovare. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione e la grande exzibizione. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione. Per andare a la grande exzibizione e la grande exzibizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A new world belongs to us. Grazie a tutti. 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 No one can. Grazie a tutti. 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 for a great warrior. Show me that you're worthy to wield it. Uh, could you show me that I recognize it anywhere? This is a saber from the country of the morning. You found this in the barren swamp? That's odd. Remember how I said my family were weapon experts? One of my earliest memories is of them talking about sabers like this. Maybe a thief stole this from the Grand Exhibition Gallery. Though it's just a gallery of ghosts now. With no one claiming ownership, I suppose it's yours. But take good care of it. This weapon carries a little bit of my heritage. So, let's go. Let's go. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.